Noi vogliamo ripartire dal ricostruire le olivete sul territorio, dare fiato alle aziende perché possa essere fatto il nuovo olivicolo, ma partendo dalle nostre varietà. Quindi avremo una chiusura molto netta su quelle che sono le nostre varietà tipiche perché crediamo veramente nella caratterizzazione del prodotto. Questo è un lavoro importante in un momento in cui l'olio sta riscuotendo molto successo, ma spesso si perde di vista la tradizione e l'origine e la tipicità di un prodotto. Questo sicuramente sarà uno dei grandi obiettivi e quindi tutto il lavoro poi andrà nella direzione di promuovere le caratteristiche particolari dell'olio doppio e anticlassico e farle conoscere in tutto il mondo. Grazie